Terza sconfitta di fila, Pescara a due punti dalla zona play-out. È già finito l'effetto delle grottaglie? No, 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 mister, non c'entra niente l'effetto delle grottaglie, anzi. Il problema quando si perde 4-1 c'è poco da dire. Abbiamo fatto una brutta partita per certi versi, però bisogna già metterla da parte e pensare a domenica che abbiamo una partita importantissima. Senti, ma nel primo tempo che cosa è successo? Perché loro facevano quello che volevano in pratica? Sì, diciamo che è una partita dove a noi c'è riuscito poco e a loro riusciva tutto. Abbiamo sbagliato? Perché? C'è poco da chiedersi. Sappiamo tante cose, sappiamo che è una partita che va messa subito da parte e bisogna pensare alla prossima. Pensare alla prossima, la gara con l'Ascoli, all'andata arrivò dopo una sconfitta altrettanto pesante con il Crotone all'Ostel Adriatico. Il Pescara riuscì ad avere una reazione e ad espugnare il Del Duca. Domenica giocherete in casa, l'imperativo sarà quello della vittoria? Sì, dobbiamo giocare per vincere. Sappiamo una partita che ci tengono tutti e potrebbe essere magari una partita che cambia anche la stagione. e dobbiamo cercarla di preparare e mettere il prima possibile da parte questa partita di oggi che è stata veramente brutta. Anche qui a Crotone, tanti chilometri di distanza, 30-40 sostenitori biancazzurri. A fine partita non vi siete avvicinati tanto, anche perché la partita è stata brutta, no? Sì, è stata brutta. Siamo andati sotto, giustamente, anche loro sono incavolati come siamo incavolati noi per questa brutta figura che abbiamo fatto. Eledian, questo modulo, questo 3-5-2, è un modulo che questa squadra può reggere? Perché nelle ultime gare si sono visti dei problemi. Tu ovviamente non sei un difensore, ma quando si ha carenza di difensori centrali, continuare a giocare con tre giocatori dietro e questa sera con Del Grosso, che non è un centrale, a cosa può servire? No, ma al di là non sono i moduli, i numeri che fanno la differenza. Se alla base magari mancano altre cose, quelli sono numeri, però se ti mancano altre cose sono numeri che rimangono lì. Abbiamo sbagliato altre cose e non di certo il modulo, perché l'abbiamo preparato in maniera diversa e abbiamo fatto meno di quello che ci ha chiesto il mister. Una curiosità, Bogino, ma perché è stato allontanato dalla panchina? Non lo so, non lo so perché non l'ho ancora visto, non ti so dire. Che va alla classe?